Gli asparagi sono verdure dal gusto delicato e sono apprezzati per la loro consistenza croccante. Sono originari dell'Europa e dell'Asia, ma sono ampiamente consumati in tutto il mondo. Gli asparagi sono noti non solo per il loro sapore unico, ma anche per le loro proprietà nutritive e i benefici per la salute che offrono. Gli asparagi sono costituiti da steli sottili e teneri che possono variare dal verde scuro al viola o al bianco. Sono ricchi di acqua e contengono poche calorie. Gli asparagi sono spesso cucinati o cotti al vapore per preservare il loro sapore e le loro proprietà nutritive. Proprietà degli asparagi. Gli asparagi sono una fonte di importanti nutrienti, tra cui vitamina K, vitamina C, vitamina E, acido folico, potassio e fibre. Questi nutrienti svolgono un ruolo chiave nel mantenimento di una buona salute generale. Antiossidanti. Gli asparagi contengono antiossidanti come la glutatione, che può aiutare a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi e ridurre l'infiammazione nel corpo. Benefici per la salute degli asparagi. Grazie al loro contenuto di fibre, gli asparagi possono favorire la regolarità intestinale, prevenire la stitichezza e promuovere una salute digestiva ottimale. Prima di continuare, ti invito a mettere mi piace e iscriverti al nostro canale per non perdere le ultime novità su alimentazione, benessere e cucina salutare. Ora torniamo al nostro video. Supporto immunitario. La presenza di vitamina C negli asparagi può sostenere il sistema immunitario, contribuendo a proteggere il corpo da malattie e infezioni. Supporto metabolico. L'acido folico presente negli asparagi svolge un ruolo fondamentale nella sintesi del DNA e nella formazione delle cellule sanguigne, favorendo la salute del sistema nervoso e sostenendo il metabolismo. Controindicazioni degli asparagi. Gli asparagi sono generalmente sicuri da consumare per la maggior parte delle persone. Tuttavia, alcune persone possono sperimentare gas, gonfiore o odore nelle urine dopo averli consumati. Inoltre, coloro che hanno problemi ai reni o alla vescica possono dover limitare l'assunzione di asparagi a causa del loro contenuto di purine. Come sempre, è consigliabile consultare un medico o un dietista prima di apportare modifiche significative alla propria dieta o se si hanno dubbi sulla propria salute o sul consumo di specifici alimenti. Siamo felici che tu stia apprezzando il canale. Se desideri ricevere contenuti regolari e aggiornamenti interessanti, ti invito caldamente ad iscriverti al nostro canale. In questo modo, non perderai nessun nuovo video e sarai sempre aggiornato sulle ultime novità. Basta cliccare sul pulsante iscriviti qui sotto e sarai parte della nostra comunità. Grazie per il tuo supporto. Vi invitiamo a dare un'occhiata alla descrizione del video. Troverete il link al nostro negozio, dove è disponibile una vasta selezione di prodotti, tra cui grembiuli divertenti, tazze da tè, shop bag funzionali e tanto altro per il benessere. Utilizzate il codice SCONTO STARBENE10 durante il checkout e affrettatevi. L'offerta scade presto. Non dimenticare mai l'importanza di una dieta varia e bilanciata per mantenere la tua salute al massimo. Prenditi cura del tuo benessere. Scopri i migliori alimenti per una vita sana. Clicca qui per saperne di più. Grazie per aver guardato e ci vediamo nel prossimo video.